Ciao e bentornati! Oggi parliamo di teorie del tutto. Molti di noi quando pensano al termine teoria del tutto pensano a grandi fisici come ad esempio Stephen Hawking oppure a scrittori di fantascienza. Sta di fatto però che il termine teoria del tutto porta con sé anche diverse ambiguità. Infatti spesso all'interno dei media con teoria del tutto si intende un modello che spieghi la realtà interamente, cioè che spieghi appunto tutti i fenomeni fisici osservabili e soprattutto che li spieghi interamente, cioè in modo del tutto completo. C'è però un piccolo problema in questo modo di vedere il termine teoria del tutto. Effettivamente esiste all'interno della letteratura fantascientifica questa immagine di teoria del tutto, cioè di una teoria che spieghi interamente ogni fenomeno osservabile nella sua completezza. Una teoria che sia in grado di prevedere ogni evento futuro tenendo conto in modo accuratissimo della posizione di ogni particella nell'universo. Tuttavia quando noi sentiamo parlare di questo tipo di teorie nella vita di tutti i giorni, cioè quando ne parla un fisico o quando sentiamo una notizia di uno scienziato o un gruppo di scienziati che hanno scoperto qualcosa in più su queste teorie del tutto, non parliamo di una teoria che sia in grado di descrivere ogni fenomeno nella sua completezza. Infatti con teoria del tutto comunemente, cioè in ambito scientifico, intendiamo una teoria che spieghi tutte e quattro le interazioni fondamentali della natura. Infatti, secondo la fisica moderna, ci sono quattro interazioni fondamentali in natura da cui tutti gli altri fenomeni poi derivano come conseguenza di queste interazioni o forze fondamentali. Le interazioni fondamentali sono appunto quattro, cioè l'interazione gravitazionale, l'interazione elettromagnetica, l'interazione nucleare forte e nucleare debole. Sicuramente nella nostra quotidianità le interazioni di cui abbiamo una maggiore esperienza sono quella gravitazionale e quella elettromagnetica. L'interazione gravitazionale è semplicemente quella che noi comunemente chiamiamo forza di gravità, quindi importantissima nella nostra vita quotidiana. È la forza che ci tiene attaccati, ad esempio, al pianeta Terra. È la forza che permette tutti i movimenti e tutte le azioni che compiamo probabilmente nella nostra vita di tutti i giorni. La seconda interazione che ci è più vicina come intuito sviluppato nella quotidianità è l'interazione elettromagnetica. Ogni volta che noi vediamo un oggetto illuminato dalla radiazione solare lo vediamo grazie all'interazione elettromagnetica, ma non solo. Naturalmente poi più si scende in profondità più quest'interazione si rivela per qualcosa di molto molto più importante, ad esempio l'interazione elettromagnetica è anche quella che tiene gli elettroni intorno ai nuclei atomici. Ci sono poi altre due interazioni un pochino più misteriose e più lontane dalla nostra quotidianità che sono appunto l'interazione nucleare forte e nucleare debole. Riassumendo all'osso la cosa, l'interazione nucleare forte è quell'interazione che tiene uniti i protoni e i neutroni all'interno del nucleo atomico. Oltretutto è anche l'interazione che tiene uniti i quark per formare il protone, il neutrone e così via. L'interazione nucleare debole invece è ancora più sconosciuta. È un'interazione molto più difficile da rivelare, appunto è molto più debole delle altre, ed è l'interazione che entra in gioco all'interno di fenomeni abbastanza particolari come il decadimento beta e soprattutto entra in gioco quando parliamo di neutrini. Ora però torniamo indietro un attimo e cerchiamo di capire come tutto questo si ricolleghi all'idea di teoria del tutto, perché effettivamente questo non è un video sulle interazioni fondamentali. Il problema è che quando noi cerchiamo di descrivere tutte queste quattro interazioni all'interno di un'unica teoria fisica non ci riusciamo. Noi abbiamo sviluppato la teoria della relatività generale, che è una teoria che spiega molto bene nell'interazione gravitazionale. La spiega in modo molto migliore rispetto a come la spiegasse ad esempio la meccanica classica di Newton, cioè la gravità classica di Newton. Si tratta di una teoria fisica, cioè la relatività generale, che considera lo spazio-tempo come se fosse curvo e descrive la gravità proprio come una curvatura di questo spazio-tempo. In questo modo si descrivono tantissimi fenomeni in modo molto accurato, fenomeni che riguardano l'astrofisica, fenomeni che riguardano oggetti molto massivi come stelle di neutroni, buchi neri. Si tratta insomma di una teoria che spiega molto molto bene i fenomeni gravitazionali. Il problema però è che spiega solo quelli. Infatti all'interno della relatività generale noi non consideriamo le altre tre interazioni fondamentali, che invece vengono considerate dalla teoria quantistica dei campi. Infatti abbiamo quest'altro grossissimo edificio matematico e fisico che è la teoria quantistica dei campi, che è in grado di descrivere con un'accuratezza incredibile tutte e tre le interazioni fondamentali, cioè quella elettromagnetica, quella nucleare forte e quella nucleare debole. Si tratta di una teoria assolutamente rivoluzionaria e che ha dimostrato di funzionare bene, arrivando a collezionare un numero enorme di dati sperimentali a proprio supporto. Si tratta della teoria in assoluto più confermata della storia della fisica. Si tratta inoltre della teoria che è alla base del modello standard delle particelle fondamentali. Quindi fin qui tutto bene? Abbiamo la relatività generale da una parte che ci spiega i fenomeni gravitazionali e la teoria quantistica dei campi dall'altra che ci spiega le altre tre interazioni fondamentali. Ora però il problema è che ci sono alcuni fenomeni in natura. Naturalmente non si tratta di fenomeni che avvengono qui sulla superficie terrestre. Parliamo di fenomeni astrofisici che avvengono a enormi energie che richiederebbero una teoria che sia in grado di spiegare tutte e quattro le interazioni fondamentali insieme. Ci sono fenomeni molto esotici che avvengono ad esempio in zone in cui la gravità è molto molto forte. Parliamo delle vicinanze di un buco nero o addirittura dell'interno di un buco nero. Sono zone quindi in cui non basta più parlare di fenomeni gravitazionali in modo isolato e di fenomeni invece che riguardano le altre interazioni in modo isolato. Bisognerebbe descrivere interamente fenomeni che siano sia gravitazionali, sia elettromagnetici, sia nucleari forti, sia nucleari deboli eventualmente. E questo non è ancora possibile perché non esiste una teoria fisica da cui tutte e quattro le interazioni fondamentali emergano in modo naturale. Ed è questo il problema fondamentale della teoria del tutto. Ora però supponiamo per un attimo che qualcuno trovi questa fantomatica teoria del tutto, che potrebbe essere ad esempio una teoria di stringa, oppure una qualche altra teoria che sia in grado appunto di racchiudere tutte e quattro le interazioni fondamentali in un'unica visione di insieme, in un unico edificio logico che quindi sarebbe assolutamente rivoluzionario, perché per la prima volta nella storia avremo un'unica teoria che spieghi in modo corretto tutte e quattro queste interazioni. A questo punto però la domanda è, riusciremo a spiegare tutti i fenomeni osservabili in modo completo e soddisfacente? La risposta rimarrebbe comunque no. Il motivo è abbastanza semplice in realtà. I fenomeni sarebbero comunque troppo complessi per essere descritti interamente. In effetti, se ci pensate, una teoria del tutto aggiungerebbe informazioni solo per quanto riguarda quelle zone esotiche dell'universo in cui tutte e quattro le forze fondamentali entrano in gioco con la stessa importanza. Però qui sulla Terra questa cosa non avviene quasi mai. Cioè, qui sulla Terra, ad esempio, quando noi facciamo gli esperimenti all'interno di un acceleratore di particelle, noi ci dimentichiamo completamente dell'interazione gravitazionale. Tutta la teoria quantistica dei campi spiega benissimo le interazioni tra particelle che osserviamo qui sulla Terra senza far entrare in gioco la gravità. Ma nonostante questo noi non siamo in grado qui sulla Terra di descrivere tutti i fenomeni nella loro interezza. Il motivo non è che non conosciamo una teoria del tutto. Il motivo è che si tratta di fenomeni troppo complessi perché entrano in gioco, ad esempio, troppe particelle oppure saltano fuori equazioni matematiche che non hanno soluzioni esatte. Ed è questo il vero motivo per cui non possiamo spiegare tutti i fenomeni che osserviamo in modo completo. Non è la mancanza di una teoria del tutto. Una teoria del tutto potrebbe dirci, ad esempio, come interagiscono due particelle in una zona in cui la gravità sia molto molto forte, però non potrebbe comunque aggiungere informazioni sulla descrizione di un semplice bicchier d'acqua, ad esempio. Un bicchier d'acqua, nonostante apparentemente sia semplicissimo, è un oggetto troppo complesso per essere descritto in modo esatto, cioè da un'unica equazione perfetta e precisa. E qui facciamo un passetto indietro perché abbiamo messo abbastanza carne al fuoco. Partiamo ad esempio da una teoria come la meccanica quantistica. La meccanica quantistica ha sicuramente rivoluzionato la visione che avevano i fisici di fine Ottocento. Si tratta di una teoria che è stata in grado di descrivere, ad esempio, come mai gli elettroni all'interno di un atomo abbiano un'energia che è quantizzata, cioè possono avere solo alcuni valori discreti di energia. Tuttavia, se noi volessimo descrivere in modo completo tutti gli atomi utilizzando la meccanica quantistica, non saremo proprio in grado di farlo. Infatti esiste solo un problema semplicissimo che si può risolvere in modo esatto usando la meccanica quantistica. Si tratta del problema dell'atomo di idrogeno, cioè se noi consideriamo un unico atomo di idrogeno, allora riusciamo a ricavare i livelli energetici dell'elettrone che si trova nell'atomo di idrogeno risolvendo con esattezza l'equazione di Schrödinger, che è un'equazione su cui adesso non mi soffermo, comunque è un'equazione molto importante all'interno della meccanica quantistica. Tuttavia, se noi volessimo studiare un atomo leggermente più complesso dell'atomo di idrogeno, noi troveremo immediatamente equazioni che non sono risolvibili in modo esatto. Quindi potremmo risolverle solo in modo approssimato. E questo significa che anche semplicemente degli atomi leggermente più complessi dell'atomo di idrogeno non sono descrivibili in modo completo, con qualsiasi teoria, che sia una teoria tra virgolette semplice e conosciuta come la meccanica quantistica, oppure che sia una teoria del tutto. Naturalmente tutto questo si amplifica quando parliamo di modelli molto più complessi della realtà, come i modelli della meccanica statistica. La meccanica statistica, in particolare la meccanica statistica quantistica, cerca di descrivere sistemi fisici in cui ci siano miliardi e miliardi di particelle che interagiscono tra di loro. E naturalmente qui l'unica cosa che si può fare è utilizzare delle approssimazioni. Quindi le soluzioni saranno comunque approssimate che noi utilizziamo o che noi non utilizziamo questa fantomatica teoria del tutto. Quindi in conclusione stiamo attenti quando, dal punto di vista scientifico, quindi al di fuori della fantascienza, sentiamo parlare di teorie del tutto. Non si tratta assolutamente di teorie che ci porterebbero a una conoscenza completa e accuratissima di ogni singolo fenomeno che osserviamo in natura. Si tratterebbe solo di una teoria che sia in grado di riunire in un unico quadro logico le quattro interazioni fondamentali. Naturalmente in questo video ho parlato di un sacco di cose che forse molti di voi non conoscono, quindi mi raccomando in descrizione cercate di dare un'occhiata ai link che vi lascio perché si tratta soprattutto di video che ho già girato in passato in cui descrivo più approfonditamente varie cose che ho accennato in questo video. Troverete un video ad esempio su questo spazio-tempo curvo della relatività generale, troverete un video sulla teoria quantistica dei campi, troverete inoltre un video su questa questione delle approssimazioni e del come mai le approssimazioni siano così importanti in fisica. Oltre a questo vi lascio anche qualche link in cui potrete leggere qualche spiegazione un pochino più estesa di queste cose. Naturalmente se vi rimangono dei dubbi anche dopo aver approfondito in tutti questi riferimenti non esitate, scrivete pure un commento. Detto questo io vi saluto, vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se volete e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao!